Nel Vangelo secondo Matteo Invece, mentre tu fai lemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua lemosina resti nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti, che nelle sinagoge e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Se l'ho dato Gesù Cristo, sempre se l'ho dato, eccoci giunti a mercoledì 2 marzo 2022. Oggi è il mercoledì delle ceneri. Abbiamo ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo sesto, versetti 1 seguenti di San Luca. E immergiamoci subito nella lettura del nostro testo di Padre Avrilon, che è un commento bellissimo a questo Vangelo che abbiamo ascoltato. Vorrei anche darvi questa indicazione, per chi desidera. Non so se conoscete la serva di Dio, Suor Josefa Mendez. Se non la conoscete, io vi invito a conoscerla, a leggere questo bellissimo suo libro, ad esempio, Colui che parla dal fuoco. È veramente molto molto bello. È una suora che ha fatto un'esperienza mistica estremamente interessante. E c'è un momento, c'è un punto, nel quale Gesù dice a Suor Josefa quanto adesso vi leggo. E ora ecco che cosa farai per consolarmi dei peccati del mondo. Soprattutto, scusate, Soprattutto di quelli, di quelli delle mie anime consacrate. Durante la Quaresima reciterai ogni giorno il Miserere, che è il Salmo 50. Pietà di me o Dio, ricordate, no? Reciterai il Miserere, il Salmo 50, con vera umiltà, aggiungendovi il Pater. Prima cosa. Seconda. Ti prostrerai a terra tre volte, durante lo spazio di un'Ave Maria, per chiedere perdono e misericordia a nome dei peccatori, e con questa stessa intenzione farai le penitenze che ti verranno permesse. Ecco. Quindi Salmo 50, così vi dico l'inizio, così lo trovate subito. No, pietà di me o Dio, secondo la tua misericordia, nel tuo grande amore, cancella il mio peccato, lavami da tutte le mie colpi, vi di seguito. Questo è Salmo 50. Lo trovate nell'Antico Testamento, nella Bibbia. Quindi questa è la prima cosa che chiede Gesù. Con vera umiltà, più il Padre nostro. Poi, durante lo spazio di un'Ave Maria, cioè mentre recito l'Ave Maria, tre volte mi prostro con la faccia a terra per chiedere perdono e misericordia a nome dei peccatori. E questa intenzione la applichiamo anche per le penitenze. Liberamente, non è un obbligo. Chi vuole, ho pensato di dirvi questa cosa perché è molto bella e quindi io ve la dico. Poi, fate Vopis. Allora, vediamo il nostro libro. Il mercoledì delle ceneri, giorno di penitenza. Quindi, ecco, una cosa importante da ricordarci è che oggi è giorno di astinenza e anche giorno di digiuno. Quindi questo non lo dobbiamo mai dimenticare. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi oggi non mangeremo la carne perché è giorno di astinenza dalle carni e di digiuno, quindi la Chiesa prescrive che si faccia, insomma, si mangi un po' poco, diciamo così. Ecco, ci ha permesso un po' di colazione, poi alla sera una cosa molto frugale, a mezzogiorno sì, un pasto, però ecco, cioè la logica qual è? Adesso non stiamo qui con le bilance perché se no cominciamo 60 grammi, 30 grammi, 10 grammi, il pane sì, il pesce sì, no, però dopo cominciano le casistiche, no? Ma se io a mezzogiorno mangio, non mangio il pesce, non la mangio la sera e alla sera non mangio la minestra ma la mangio a colazione perché sono vegano e poi dopo io invece della colazione, quella cosa lì, la mangio a mezzogiorno invece che poi la porto la sera? E' possibile? Faccio peccato? Ecco, vi prego, non cominciamo con queste domande perché usciamo dalla logica, no? Ok, quindi la logica qual è? Poi ognuno la applica secondo le sue usi, i consumi, il suo stato di vita, gli impegni che ha, i problemi di salute che ha, tutte le cose. La logica qual è? E' un giorno di digiuno, punto, questa è la logica, che non vuol dire non devo mangiare nulla, ma non vuol dire neanche che mi porto una balena sul piatto, perché tanto è pesce, no? Quelli che dicono, ah oggi è il giorno di astinenza, ok devo mangiare il pesce, benissimo una scatola di ostriche e tre raguste, ecco, è pesce eh? Per l'amor del cielo, è pesce, però non è la logica del digiuno, capite? Scusate, non è la logica dell'astinenza e neanche del digiuno, nel senso, quella è pesce e non è carne, vero, ma ci vuole un po' di sale nella zucca e capiamo tutti che se devo fare astinenza e digiuno va bene non mangiare la carne, però il digiuno mi chiede anche che dovrò fare dei pasti molto fugali, no? Molto diversi dal solito, quindi mangerò, ma mangerò, se voglio mangiare posso mangiare, non è prescritto da nessuna parte che devo fare pane e acqua, no? Se lo voglio fare, benissimo, però non è prescritto, quindi mangerò, ecco, però usate, usiamo tutti la testa, quindi magari non mi mangio un catino di insalata, pomodori, finocchi, sedano, carote, cetrioli, perché tanto è sulla verdura. No, ma la logica non è che mi riempio lo stomaco fino a morire, se no siamo appunto a capo, capite? Cioè, non è che possiamo fare così giochini di prestigio, mi mangio un pacchetto di sottilette, così almeno quello è formaggio e 25 uova, no? No, la logica mi chiede, la logica della penitenza mi chiede che devo fare penitenza, quindi saprò io se sono abituato a mangiare due uova, che quel giorno ne mangerò una, se sono abituato a mangiarmi tre finocchi, quel giorno ne mangerò uno, e via di seguito, no? Cioè, deve sentirsi il digiuno e l'astinenza, per cui alla sera posso prendere un brodino, o lo prendo a mezzogiorno, un appassato di verdura, una cosa semplice, no? Che comunque mi faccia andare oltre la realtà del cibo, ecco, spero di essere stato chiaro. E adesso dedichiamoci alle cose belle e sostanziose. Subito svegliato, scrive il padre, subito svegliato, fate una seria riflessione, che voi non siete che cenere e polvere. Sia nel principio della vostra esistenza, in cui voi eravate anche meno della polvere, perché voi non eravate che un puro niente, sia nel vostro fine, in cui dopo essere stato divorato dai vermi, sarete ridotto in cenere e polvere. Una seria riflessione su questo. Non siamo che cenere e polvere. E' importante intanto dircelo, eh? Io sono cenere e polvere. Punto. Fate il segno della Santa Croce sulla vostra fronte, che il luogo dove il sacerdote spargerà le ceneri, e dite anticipatamente a voi stessi quei sentimenti e una profonda umiltà unita al pensiero della morte, sovvengati, ovile creatura, che non sei che cenere, e ritornerai in cenere. Tutto. Tutto tornerà in cenere. I miei bellissimi capelli, le mie bellissime unghie, la mia bellissima pelle, il mio fisico tutto squadrato, con la tartaruga che fa la roulette e la pirolette, il triplo salto mortale. Tutto diventerà polvere e cenere. Non rimarrà nulla. Ok? Tutte le vostre pratiche saranno oggi indirizzate alla penitenza. Starete attento a privarvi di tutto ciò che può lusingare i vostri sensi. Quindi è inutile che mi faccia la penitenza nel mangiare e poi mi guardo 12 ore di televisione. Eh no. Ecco, no. E a far tutto ciò che voi conoscerete di più penoso e opposto alle vostre inclinazioni. Ecco, magari stasera, per una volta all'anno, porta giù tu la pattumiera. Per esempio. Magari cambia quella lampadina, quella povera donna, che è un anno che ti chiede di cambiare la lampadina che c'è sulla tua testa, che non... Sì, sì, domani lo faccio. Sì, sì, dopo lo faccio. È un anno che quella lampadina lì è fulminata. Cambiela. Ecco, questa sia la tua penitenza. Stendi tu per una volta, non muore nessuno. Mettiti tu a stirare. Fai tu. Butta tu l'umido. No? Per esempio. Cose così. Cose opposte. Fai tu da mangiare. Per esempio. Non è un peccato mortale. Bene. Questa penitenza deve essere universale. Vedete? E perciò deve stendersi nel vostro portamento, nei vostri sguardi, nel vostro gusto, nelle vostre parole, nel vostro udito e pressione nel suono della voce. Oggi non bere il caffè. No, padre. C'è, avete gli occhi crepati? No, il caffè no. Di rinuncio a tutto, non mangio più niente, faccio pane agudo. Ma il caffè non me lo tocchi perché sennò non mi sveglio. Non devo fare commenti, vero? È meglio di no. Sto zitto. Credo che questo silenzio sia stato abbastanza rumoroso. Una bella penitenza quaresimale. Non bevo il caffè fino a Pasqua. Una bella penitenza. Smetto di fumare. Eccola. Da oggi prendo il mio pacchetto, il mio cendino, lo metto ai piedi della croce. Basta. Sono attaccato al vino? Ma io non sono alcolizzato. Va bene. Benissimo. Allora per 40 giorni non berlo più. No, padre, il vino no, la prego. Il vino no. Allora sei attaccato al vino? Offrilo. Fai penitenza. Vai al contrario. E deve toccare tutto, no? Gli sguardi, quello che ti piace guardare, le parole, questo parlare, parlare. Il silenzio di cui mi ho parlato ieri è il motto di uno dei due standardi, ricordate. L'udito. La curiosità di sentire, di ascoltare. E persino nel suono della voce. Pensate voi. Pensate voi il suono della voce. Come parliamo. No, ma perché padre Villano dice queste cose? Ma io lo capisco. È un santo uomo veramente. A quei tempi. Perché c'è gente che non parla. Grida. Come gli straccivendoli. Ecco perché poi non sentite le mie omelie. Padre alzi la voce. Ma io non suono una radio. Padre non si sente. Impara a fare silenzio. Se tu imparerai a fare silenzio, vedrai che sentirai anche la voce. Ma siccome noi siamo abituati a gridare, non a parlare, a urlare, sempre queste... Avete mai notato? Uno abita al quinto piano, no? E quello arriva al pianerottolo, giù sotto, ha penetrato in portineria, e parla col marito, col figlio. E tu sei al quinto piano, in camera tua a studiare, e senti quello che dice. Che lui dice, scusami, ma perché devi urlare sul pianerottolo? Eh no, ma questa è casa mia! Eh beh! Ho capito, non è che devi fare lo straccivendolo e il venditore di latte ambulante. Voglio dire, cioè, le cose che devi dire, siccome hai davanti la persona, gliele puoi dire con un tono discreto. Quando io entrai in convento, il primo giorno che io entrai in convento da posturante ventitrenne, il mio padre maestro, sant'uomo, dopo tre picosecondi che ero dentro, si ferma, mi guarda e mi dice, ma tu quando parli devi sempre urlare? Io, immaginatevi, sono rimasto gelato. Dico, in che senso? Dici, ma non senti quanto urli? Ma guarda che qui non siamo sordi. Abbassa la voce. Io ho impiegato sei mesi del mio posturandato per imparare a parlare. Perché è vero, io non parlavo, urlavo. Io non parlavo, gridavo. Ma cosa gridi che cosa? Ma perché devi gridare? Perché siamo immersi in un mondo che non parla, urla. Sempre. impariamo a moderare il suono della voce, impariamo a parlare a voce corretta, senza urlare, senza gridare. Non c'è bisogno. imparate in casa vostra, imparate sul pianerottolo. Non si grida. Santa Elisabetta della Trinità diceva bisogna camminare in convento come se fossimo angeli per non disturbare le consorelle. madre mia. Alle volte uno si ferma e dice ma che cos'è? Cosa c'è qui? La carica degli elefanti di Annibale stanno attraversando, sono passati qui davanti a me nuovamente, sono reddivi anche loro. C'ho gli elefanti qui fuori con Annibale che sta correndo e dietro i figli di Attila. Ma cosa urlano a fare? Ma perché urlare? Ma perché muoversi in quel modo il bim, 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 porte che sbattono, finestre che sbattono, pentole che vanno a tutte le palle. Uno lave i piatti e sembra che sta suonando la batteria. Ma figlio mio, ma rilassati, ma calmati. Cioè uno si accorge che l'altro si è alzato dal letto per il caos infinito che questo fa ogni cosa che combina, ogni cosa che tocca, bim, bim, bim. Ma santa pazienza. Ma un po' di rispetto del sacro silenzio. un po' di moderazione nella voce. Questa penitenza molto più si estenderà nei vostri sensi interni, cioè nelle memorie, nei pensieri, nei sentimenti, nei desideri, nella volontà che in ogni cosa che dovete combattere. Andate a questa religiosa cerimonia con lo spirito di raccoglimento e di compunzione, penetrato dalla vostra bassezza e dal vostro niente. Sovvengavi che le ceneri sono una specie di sacramento e di mistero che deve ispirarci sentimenti di umiltà e di morte e per conseguenza di penitenza. Noi dobbiamo imparare a pensare alla morte. Memento mori. Ricordati che devi morire. Dobbiamo fare i nostri bei giri di cimiteria ogni tanto. Preparatevi a questa umiliante cerimonia dicendo a Dio con tutto il vostro cuore. Signore, voglio sindora compiere in spirito nella mia persona ciò che voi farete un giorno nella mia morte. Voi mi avete formato di polvere che stemprata ed impastata con l'acqua viene ad essere fango che ogni giorno si calpesta. Voi avete ancora deciso dopo la mia morte di ridurmi in polvere. Voglio io stesso ridurmi ridurmici anticipatamente ed in questo stesso giorno con la penitenza del mio spirito e della volontà dell'inclinazione dei desideri della carne acconsento benvolentieri la giusta sentenza della morte pronunciata contro di me e confesso che merito di morire ed essere ridotto in cenere perché sono un peccatore e se non fosse stata per la vostra grande misericordia sarei ad ardere in quest'ora senza fine nelle fiamme infernali. Bella questa preghiera, no? Fate riflessione che le ceneri che vi saranno messe sul capo sono un'investitura di un possesso di questa penitenza che Dio esige da voi. Sono un tacito avviso che dobbiamo ridurci in cenere dopo la nostra morte e questo pensiero è molto opportuno per farci disprezzare noi stessi e soprattutto a non fare alcun conto di questo corpo per cui abbiamo troppi riguardi i cui termini sono la corruzione l'infezione la deformità i vermi e la cenere. Ok? In secondo luogo dobbiamo abbassarci sotto la cenere con l'umiltà con la penitenza né dar mai luogo alla superbia. Mi raccomando e non posso soffermarmi su tutto che sennò ci vogliono cinque ore di omelia. In terzo luogo dobbiamo ridurre in cenere tutti i nostri sregolati appetiti tutti i nostri peccati tutti i nostri abiti viziosi e di stirparli in modo che siccome la cenere è una specie di annientamento così tutto ciò che troveremo in noi di vizioso sia ridotto in cenere dal fuoco del divino amore e totalmente consumato dalla penitenza. Capito? Tutti gli sregolati appetiti tutto qualunque essi siano i peccati gli abiti viziosi tutto ecco perché vi ho detto il fumare perché fumare è un vizio è un vizio certo che è un vizio deve essere tutto estirpato finalmente dobbiamo far sì che i nostri cuori si spezzino dal dolore dalla compunzione della penitenza che l'amore di Dio vi abbia il primo luogo che ardano delle sue divine fiamme e per così dire se fosse possibile si riducano in cenere cioè l'idea è io devo essere bruciato ridotto in cenere dalla fiamma d'amore di Dio capito? che bello Gesù riducini in cenere attraverso la fiamma del tuo cuore meditazione sulla penitenza tratta dal Vangelo quando digiunerete dice Gesù non siate mesti come gli ipocriti i quali affettano di comparire con un viso sfigurato affinché gli uomini vegano che egli digiunano guardatevi bene dal vizio abominevole dell'ipocrisia col quale il demonio cerca di farvi perdere il merito delle vostre opere buone per contrario cominciate i vostri digiuni le vostre astinenze i vostri devoti esercizi con quella gioia spirituale gioia non ste facce sempre depresse e tutto il mondo è sulle mie spalle e io sono afflitto sfinito ridotto all'estremo nessuno mi capisce nessuno mi ama nessuno mi adora nessuno mi serve nessuno mi abbraccia nessuno mi bacia nessuno mi coccola nessuno che il salvatore richiede nel vangelo di questo giorno gioia spirituale non ste cose qui da da mondanità affettata rallegratevi coi santi di essere con la penitenza una vittima volontaria temporale dei vostri peccati della giustizia di dio ed in questa maniera eviterete sicuramente di essere un giorno la vittima involontaria ed eterna questo padre veramente geniale a me piace tantissimo poi non so a voi questa munizione adesso attenti bene questa munizione che era necessaria i farisei quali non facevano le loro opere buone se non per ingannare il popolo con false apparenze di penitenza non è meno necessario ai cristiani del presente secolo qui siamo nel 1800 non dimentichiamocelo mai il quale 1800 se Padre Veno fosse vivo adesso non so cosa scriverebbe il quale non è che un secolo di fallaci apparenze dove non v'è una vera e sola devozione dove non v'è una sincera e rigorosa penitenza ma vi regna la mollezza la vanagloria e una falsa devozione nel 1800 nel 2022 va bene non vi lasciate quindi vincere dal vostro amor proprio che cerca di impedire la vostra penitenza e Gesù nel Vangelo corrente ve ne fa conoscere tutti gli artifici i pericoli le funeste conseguenze e vi dà altri sile necessari e ammunizioni per non ingannarvi attenti all'amor proprio attenti all'amor proprio sull'amor proprio ho già fatto delle omelie in passato e quindi non ci ritorno credo proprio un anno fa credo di averle fatto proprio un anno fa se non vado errato comunque se vado errato le trovate tutto quello che fate sia diretto a gloria di Dio e non per piacere agli uomini capite tutto sia fatto la gloria di Dio non per piacere agli uomini dai quali solo avrete qualche lode poco sincera a parte che agli uomini diciamocelo tra di noi agli altri non gli interessa niente di quello che tu di buono fai agli altri interessa al massimo il male perché siamo curiosi morbosi ma del bene cosa interessa non interessa niente ma neanche se lo ricordo lo scuola ah sì bravo bravo basta fine non gli interessa quindi è inutile cercare l'apprezzamento degli uomini dai quali avete solo qualche parola poco e sincera perché tra l'altro mica ci crediamo a tutte le parole da cortigiani che ci diciamo ma che non lascia di lusingare l'amor proprio di invanirvi di sedurre il vostro spirito di avvelenare il cuore di distruggere tutto il merito delle vostre buone opere dei vostri digiuni delle vostre penitenze quindi attenzione evitate l'arte sentite un po' dice San Gregorio che solo forma l'esteriore del sembiante perché essa è fatta per gli occhi degli uomini ma imitate la natura che comincia da formare il cuore bello bella questa cosa la natura comincia a formare dal cuore dal centro dell'uomo bellissimo cominciate a convincere il vostro spirito e la necessità assoluta di fare penitenza di mortificare i desideri del vostro cuore e allora la vostra penitenza sarà bentosto universale dobbiamo convincerci che è necessario fare penitenza mortificare i desideri del cuore io vorrei questo e rinuncio voglio quello e rinuncio e rinuncio celate attenti attenti adesso celate con molta premura tutte le penitenze che farete nel tempo di questa quaresima nel rimanente di vostra vita questa è una promessa che dobbiamo farci da adesso silenzio assoluto tranne che con confessore silenzio assoluto su tutte le penitenze che faremo e dovremo nasconderci per farle da adesso fino alla nostra vita affinché il Padre Celeste che vede tutte le vostre azioni e tutti i più segreti movimenti del vostro cuore vi dia una larga ricompensa parimenti attenti siate persuasi che tutto ciò che farete per piacere agli uomini è perduto per il cielo punto lo dice Gesù fate ancora di più bella questa che bellissima bellissima fate ancora di più nascondetevi a voi stesso resistete coraggiosamente ai moti di compiacenza di vanità e del vostro amor proprio e qualunque bene facciate consideratevi sempre come un servo inutile ah come sono bravo ah come sono bello ah come sono intelligente ah come sono un astuto ah come sono ecco capite guardatevi bene dice ancora Gesù nel Vangelo di questo giorno dal tesaurizzare per la terra dove tutto finisce e il minimo accidente può privare di tutte quelle ricchezze che avete acquistate con tanta fatica e conservate con molto attacco accumulate sovente con ingiustizie ed inquietudine ma tesaurizzate solamente per il cielo in cui tutto è permanente ed eterno e dove non c'è rischio che nessuno possa rubare le astinenze digiuno e le preghiere la parola di Dio la lemosina la mortificazione eccovi i frutti di questa stagione no? di questa quaresima ecco i tesori che vengono offerti in questo santo tempo non possono esservi tolti dai latri non vi saranno mai tolti l'importante è custodirli nell'umiltà e nel timor di Dio non li esporrete agli occhi degli uomini per avere lode e invanirvi che vuol dire riempirvi di vanità perché poi li perdete il nemico che è da temersi per non perdere questi tesori è la vanità perciò Cristo contro questo si astuto nemico premura di difenderci allorché ci comanda di nascondere le nostre opere buone soprattutto quando egli aggiunge quelle parole dove sta il vostro tesoro vi sta il vostro cuore dispregiamo tutti questi beni temporali fugaci ne mettiamo mai in essi il nostro cuore non mettere il cuore le quattro cose che c'è lì non mettere lì il cuore non mettere il cuore ma nascondiamo piuttosto questi tesori spirituali nel più segreto del nostro cuore in tal guisa rimarranno in sicurezza sappiate inoltre che Dio non mancherà di darvi il suo aiuto ed essere nel vostro cuore la guardia fedele dei suoi doni delle sue grazie delle sue virtù quindi noi seguiremo il suo consiglio benché rigorosa sia la nostra penitenza fervorosa le nostre preghiere abbondante le nostre emosine la nostra mano sinistra non sappia ciò che ha operato alla destra lo saprà Dio e questo ci basta questo sarà il mezzo efficace per non perdere i nostri i nostri spirituali tesori scusate e adesso questa bellissima preghiera io solo voglio avere o mio Dio gli occhi vostri per testimoni delle mie buone opere e della mia penitenza io rinunzo con tutto il cuore le lodi i vani applausi delle creature voglio abbracciare i rigori della penitenza perché sono peccatore perché devo e voglio soddisfare la vostra giustizia perché voglio scansare di fare una penitenza eterna nel inferno perché voglio obbedirvi piacervi e possedervi eternamente in paradiso allontanate dunque o Signore dal mio spirito e dal mio cuore ogni desiderio di piacere ad altri fuorché a voi e ad ogni rispetto umano ispiratemi voi stesso lo scopo che devo avere nella penitenza che oggi sto per intraprendere ma vi domando altresì la forza per eseguirlo se non la fine con un fervore sempre costante e senza dar retta alla mia delicatezza poverino morirai di fame morirai di sonno io voglio col vostro aiuto che umilmente imploro umiliare talmente il mio spirito che mai più si rivolti contro le vostre sante leggi io voglio distaccare il mio cuore dalle creature per darlo da ore innanzitutto a voi e di estirpare totalmente tutti i desideri e tutti gli affetti che recano di spiacere voglio insomma insomma macerare questa carne peccatrice ridurla in servitù ma datemi voi oh signore forza per mettere in pratica queste mie risoluzioni e adesso delle breve alcune riflessioni sulla passione la passione di Gesù è senza dubbio il più incomprensibile di tutti i misteri il più sorprendente il più inaudito di tutti i prodigi la più crudele la più sanguinosa di tutte le tragedie il più lugubre ed il più tenero di tutti gli spettacoli che si è mai visti sulla terra questa è per parte degli uomini la più crudele la più iniqua di tutte le ingiustizie è per parte di Dio la più segnalata la più splendida è la più autentica di tutte le prove del suo amore questa è la condanna di un innocente dell'innocenza stessa la passione di un Dio impassibile la morte ingiusta del sovrano del cielo e della terra del salvatore di tutti gli uomini e di un Dio immortale che cosa vi è di più tenero di più degno di più compassionevole di più lacrime che cos'è più capace di intenerire i nostri cuori accenderli del santo divino amore e spezzarli con una vera contrizione i suoi discepoli si danno una fuga i suoi amici lo tradiscono i suoi fratelli lo perseguitano il suo medesimo padre lo abbandona nessuno gli presta assistenza ne prende parte i suoi dolori il cielo la terra l'inferno cospirono di concerto contro questo Dio per togliergli la vita con un'infinità di stuplizi più atroci e ne vengono a capo perché morì sopra un infame patibolo un giudice perfido e scellerato ne ha pronunziata la sentenza a distanza dei sacerdoti e di tutto il suo popolo che chiedeva il suo sangue il cielo gliene ha dato il potere l'invida del demonio gli ha avuto parte del furore degli uomini tutto messo in opera per fargli soffrire il più crudele e il più ignominioso di tutti i generi di morte che abbia ma inventato i più colpevoli e più scelerati di tutti gli uomini con unirli insieme tradimenti maledizioni scherni falsi testimoni oltraggi fragelli spine fiele chiodi lancia e croce sì o signore questo è troppo ma resto coperto di confusione mi ferisce mi ferisce così il cuore allorché penso io essere la cagione delle vostre pene penso di essere io la cagione delle vostre pene della vostra morte e che i miei peccati vi hanno ridotto a questo deprorevole stato sì sono io che vi ho dato in mano i soldati i giudici i carnefici con le mie infedeltà e perfidie io ho ferito il vostro capo con la superbia e con la vanità io ho coperto di piaghe ho lacerato la vostra carne e vi ho fatto spargere fino all'ultima goccia io sono molto colpevole perciò ho rinnovato questo genere di morte tante volte quanto è di la somma sventura di cadere nel peccato mi sembra che veramente abbiamo tantissimo quest'oggi per fare silenzio per fare penitenza astinenza digiuno mortificazione e tanta 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 preghiera benedicat vos onnipotens deus pater et figlius e spiritus santus ame dio ci benedica e la vergine ci protegga ame si è lodato gesù cristo sempre si è lodato che Grazie.